Si tratta naturalmente di vedere che cosa si vuole proporre. Noi su questo avevamo già dato delle indicazioni molto precise l'anno scorso, l'ho detto anche quest'anno, io rimango assolutamente convinto che un sistema funziona bene se tutti e tre i soggetti fanno la loro parte. Intanto, come abbiamo sempre detto, i giudici proteggono gli atti istruttori e fanno rispettare il segreto istruttorio. La stampa utilizza le informazioni nell'interesse dei cittadini e i soggetti che vengono coinvolti hanno diritto a processi ragionevolmente rapidi in tempi compatibili con le esigenze di giustizia. Qualunque altro rimedio rischia di non raggiungere l'effetto e rischia soprattutto di aggravare ulteriormente le tensioni fra questi tre diversi protagonisti, la politica, la giustizia e la libertà di stampa che come tutti sappiamo sono tre colonne fondamentali del sistema democratico. Quindi alla fine, in ogni caso, qualunque tensione irrazionale, qualunque risposta di impeto non può che danneggiare gravemente il tessuto democratico del Paese.